Prende forma la sinergia Teramo-Pescara. Diversi giovani biancazzurri sono pronti a sbarcare alla corte di Antonino Asta. I nomi sono quelli di Tomas Calore, Cristian Ventola, Ibrahima Diallo, Alessio Milillo e Lorenzo Paolucci. Discorso particolare va comunque fatto per Diallo e Ventola. Entrambi partiranno in ritiro a Rivisondoli con il Pescara, perché l'idea di Zeman è di valutarli. Nel caso i due si aggregeranno al Teramo a preparazione in corso. Ventola è un jolly, può giocare anche a mezzala, ma il ruolo principale è quello di terzino-sinistro, compito col quale ha debuttato in Serie B con il Pescara ad Avellino nell'aprile del 2016. La scorsa stagione era in prestito alla Maceratese. Anche il guineiano Diallo è molto duttile, terzino-sinistro, ma all'occorrenza anche mediano e difensore centrale. Ultima stagione trascorsa nella primavera del Pescara, dove ha collezionato 14 presenze. Per Paolucci e Calore si tratterebbe di ritorni. Calore è stato in bianco-rosso già nell'ultima stagione, con due presenze in campionato e altrettante in Coppa Italia, ma questa volta potrebbe essere promosso a titolare. Il centrocampista Lorenzo Paolucci è stato a Teramo due anni fa sotto la gestione tecnica di Vincenzo Vivarini ed è reduce da 28 presenze a Taranto, sempre in Lega Pro. Per Alessio Milillo si tratterebbe di un salto di categoria, dopo il presido in Serie D al San Nicolò e potrà crescere alle spalle del duo Cai di Speranza. Sempre dal Pescara è difficile arrivi il centrocampista ganese Ransford Selassie, mentre è in stand-by la trattativa per l'esperto Alessandro Bruno. Sempre col Pescara va poi concordata la gestione di Marco Sanzovini, l'attaccante ha reso al di sotto delle aspettative e non ha legato con la piazza. Non rientra nei pieni futuri di Asta. Oltre all'ampio fronte Pescara, il neo DS Giorgio Repetto è impegnato anche su altri versanti, vicina alla chiusura della trattativa con il Chievo Verona per il centrocampista gambiano classe 96 Yusufa Bob, che nell'ultimo anno ha giocato anche lì a Taranto, salvo trasferirsi a Padova da gennaio, ma in Veneto ha trovato poco spazio. Le prossime ore saranno decisive anche per la definizione della trattativa col trequartista del Bassano Roberto Candido, specialista dei calci piazzati, ha siglato uno dei suoi tre gol dello scorso campionato proprio al Teramo, allora guidato da Lamberto Zauli.